Il mezzo ai ribelli sul fronte di Brega, a meno di 5 km di distanza dalle forze leali al colonnello Gheddafi. Sul terreno continua la battaglia, chilometro per chilometro, dopo che i ribelli sono stati costretti ad indietreggiare di fronte al fuoco dell'esercito di Tripoli. Ma solo ieri centinaia di ribelli si sono recati in prima linea per affrontare i militari lealisti con la copertura degli aerei della Nato. La riconquista di Brega, con il suo potenziale economico legato al petrolio, è fondamentale per i militanti anti-Gheddafi. La strategia dell'esercito di Tripoli complica tuttavia il compito di caccia dell'alleanza. Asseragliati nel centro di Brega, gli uomini di Gheddafi si fanno scudo della popolazione locale. Il nostro inviato, Mustafa Bag, segue da vicino gli spostamenti dei ribelli. Siamo a 15 chilometri da Brega, dice, dopo una sconfitta contro le forze di Gheddafi, i ribelli sono pronti ad avanzare. Da qui procederanno verso il centro della città. Grazie a tutti.